Il nostro programma di governo in tutta Italia con degli eventi mirati che servono proprio a diffondere i nostri progetti per il futuro di questo paese. Elimineremo i privilegi di questo palazzo perché noi l'abbiamo già fatto. Questa campagna elettorale non la finanzieremo né con fondi pubblici come quello del 2x1000 e né con fondi privati di grandi lobby. E sappiate che dopo dieci giorni di rally per andare al governo di questo paese abbiamo già raggiunto 150.000 euro di donazioni con micro donazioni da 30 euro ognuna. Privilegi senza fondi pubblici e senza finanziamenti da grandi lobby. Questa campagna elettorale sarà una campagna in cui ancora una volta tutti quanti vi diranno che vogliono eliminare i vitalizi. Sarà una campagna elettorale ancora in cui tutti quanti vi diranno che vogliono eliminare gli sprechi e i privilegi. Lo hanno già fatto in quella del 2013 ma dal 2013 ad oggi una forza politica è passata dalle parole ai fatti. Tutti gli altri, quelle che erano state le promesse della campagna, se le sono rimangiate.